La prima cosa era che quando mi hanno detto di fare il film io mi ho detto ma quanto mi danno? E allora mi ha detto la cifra e ho detto ma sono un artiste e allora non sapevo ancora chi era, chi c'erano, Caterina, di lui, di Carlo, non sapevo allora mi sono messo a leggere questa cosa e dicevo vabbè e vedo una trama straordinaria, dolce e allora ho detto non mi prego niente anche se non mi pagano così poco io lo faccio